Ma direi che con una puntualità veramente torinese, se non asburgica, possiamo cominciare, qualcun altro arriverà, non penso che avremo chissà quali folle, per un argomento che non è certamente popolare. Però vi ringraziamo di essere venuti e speriamo di poter continuare questo discorso in maniera ancora più diffusa e sicuramente il contributo del professor Scoaccio aiuterà molto in questo campo. Devo purtroppo giustificare, scusare l'assenza di Eleonora Attesio, ex consigliera comunale, assessore comunale e regionale, che purtroppo non gode di ottima salute in questi giorni e dovrà subire un'operazione tra due giorni e quindi sta facendo tutto un trattamento preparatorio per cui non può partecipare, non può essere qui con noi questa sera. Mi ha detto che se riusciva si collegava, speriamo che si colleghi, ad ogni modo sappiamo che possiamo contare su di lei appena ristabilita e penso che a nome di tutti possiamo già mandarle fin d'ora i nostri auguri più fervidi perché si ristabilisca al più presto e continui la battaglia con noi. Quindi grazie a voi di essere venuti. Il tema è molto poco popolare ed è quasi una parolaccia in una città come Torino, ma non solo. È solo a Napoli, l'abbiamo dimostrato due mesi fa quando abbiamo fatto proprio nella sala Poli qui vicino un incontro come questo sulla Thyssen riguardante la bonifica dell'area e ci ha dimostrato l'ex sindaco di Napoli, De Magistris, che la bonifica si può fare, che lui come sindaco, ma attuando efficacemente degli procedimenti che erano già stati avviati da sindaci precedenti, l'architetto Bettini mi ricorda sempre il sindaco Valenzi, per la bonifica di Bagnoli. Oggi a Napoli, a Bagnoli, stanno recuperando il litorale, tre chilometri di litorale che era stato inquinato dalle acciarierie di Bagnoli e che adesso, grazie alle bonifiche avviate a suo tempo, sarà restituito all'uso, bonificato all'uso dei cittadini, pensate, tre chilometri di litorale a Napoli. Si può fare, come diceva il sindaco De Magistris, occorre la volontà, e noi qui a Torino non l'abbiamo mai vista, il coraggio, stendiamo un velo pietoso, e poi la forza, e la forza è poca, perché la sensibilità su questo c'è, noi abbiamo verificato in circoscrizione 5, dove abbiamo volantinato, fatto iniziative su questa vicenda da tempo, succede che diamo il volantino sulla Tissani e la gente ce lo viene a chiedere, quando invece in altre occasioni dai volantini la gente dice no, non lo voglio vedere, non mi interessa, lasciami in pace, così. Trattandosi di questo argomento, la gente al mercato di corso cincinnato tornava indietro e ci veniva a chiedere volantino, avete ragione, eccetera. E però non abbiamo una risposta da parte delle istituzioni. Abbiamo presentato come movimento Salviamo la Pellerina, una proposta di delibera di iniziativa popolare perché il Consiglio Comunale adotti una variante del piano regolatore che destini l'area della Tissen a servizi pubblici sanitari e parco e che casomai costruisca lì quell'ospedale che invece l'amministrazione comunale, se la regione e l'Inail vorrebbero costruire sul parco della Pellerina per il quale il comune di Torino venderebbe 60.000 metri quadri di suolo, di parco, all'Inail per fare l'ospedale. Cioè si è arrivati al punto di vendere i parchi. In questa situazione andiamo veramente controcorrente e una delle obiezioni che ci viene sempre fatta rispetto a questa proposta è ma è lungo, sono trascorsi 16 anni dal ruogo della Tissen, ma occorre tempo perché 16 anni non bastavano evidentemente visto che non hanno fatto niente. E i soldi, quando le leggi dicono che inquina paga e bisognerebbe cercare il signor Spean che è stato condannato dal Tribunale di Torino. Questa condanna non è mai stata applicata in Germania tant'è che fino a poco tempo fa girava liberamente e adesso pare che la magistratura tedesca abbia deciso che magari di notte deve dormire in carcere ma il giorno faccia pure quello che vuole. Ecco, siamo in questa situazione. Quindi veramente una situazione estremamente delicata, popolare se parli con la gente, estremamente impopolare se parli con i nostri amministratori. Questa sera abbiamo qui una consigliera comunale che su questo ha cercato di smuovere un po' le acque, la consigliera del capogruppo Ravinale e è stata approvata una mozione per la bonifica dell'altista in consiglio comunale ma purtroppo finora dopo mesi e mesi che è stata approvata non si vede nessun atto concreto. Eppure noi insistiamo nel dire che non solo la bonifica si deve fare e basta con i rinvii ma a questo punto dopo 16 anni se la proprietà privata è legittima e protetta dalla Costituzione la proprietà privata per esserlo deve avere anche una funzione sociale e dopo 16 anni quel rudere, quel cadavere industriale non ha nessuna funzione sociale anzi antisociale perché da un lato ammorba ancora l'aria e quella è una zona che non ha bisogno di peggiorare già delle condizioni ambientali non ideali ma soprattutto inquina la falda idrica con cromo esavalente che è tossico, cancerogeno. Da 16 anni non si interviene e anche con i recenti provvedimenti che sembra siano stati adottati non si riesce a capire ma abbiamo qualcuno qui che sa tutto di queste cose che ormai può riprendere questo discorso. l'esproprio non c'è utilità sociale in quello che esiste e noi chiediamo che il sindaco e l'amministrazione comunale e le amministrazioni pubbliche che hanno competenze in questo campo finalmente intervengano e intervengano in base alla legge non perché vogliamo un atto certo che occorre la volontà politica per applicare la legge soprattutto da parte di coloro che difendono anche oggi vogliono difendere la Costituzione la quale dice appunto che la proprietà privata è tutelata ma deve avere una funzione sociale se non ce l'ha si può espropriare ma io finisco qua e lascio la parola a chi sa moltissimo meglio di me queste cose questi argomenti e ringrazio tantissimo il professor Foix uno dei pochi giuristi di Torino che su questi argomenti non ha paura di dire quello che pensa e gli faccio anche i complimenti per questo grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti